In occasione della manifestazione Eurolis, domenica 7 luglio nella sede dell'Ecomuseo della Resistenza Carlo Mastri, è stato inaugurato il nuovo centro visite del Parco Provinciale del Colle dell'Is. La nuova sede è stata ricavata grazie all'ampliamento e alla ristrutturazione del fabbricato, in cui hanno trovato posto nuovi e originali allestimenti espositivi che valorizzano il concetto di resilienza, cioè la capacità di resistenza e sopravvivenza ad eventi sfavorevoli. Al Colle dell'Is la resilienza è stata dimostrata sia dai partigiani durante la resistenza al nazifascismo che dalla natura nel corso dei secoli. La ristrutturazione, l'ampliamento e il realestimento del fabbricato sono stati progettati e realizzati in pochi mesi, grazie alla professionalità e all'impegno di alcuni tecnici delle direzioni, sistemi naturali e azioni integrate con gli enti locali della città metropolitana di Torino. Questi locali avevano una destinazione, al di là di una parte di ingresso che già esisteva, di magazzino e questo nella fattispecie dove siamo adesso era un portico. Si è pensato di aprire la parte di magazzino verso l'ingresso e chiudere questo portico per rendere un locale unico. Da una parte di disambiguazione iniziale da cui dipartono poi da un lato un percorso sulla storia e quindi sulla resistenza e quindi una serie di reperti, documenti e scritti che è una linea del tempo che traccia quelle che sono stati gli eventi che hanno interessato la storia nazionale ma poi anche la storia di questi luoghi. Invece da questa parte la parte più naturale, quindi tutto quello che riguarda le peculiarità del Parco del Colle dell'Is. In particolare sono stati affrontati gli aspetti legati alle specie erbacee o alle specie vegetali che lo caratterizzano. Da un lato un discorso sulla resilienza e i cambiamenti che hanno interessato questi luoghi, la presenza del lupo, i toponimi e una parte legata anche alla geologia. Il Parco naturale del Colle dell'Is è nato nel 2004 per volontà dell'allora provincia di Torino, oggi città metropolitana. Si estende su di una superficie di 360 ettari a cavallo fra le valli di Susa e di Viù, salendo dai mille metri di quota del santuario della Madonna della Bassa, ai 1600 metri della cima del Monte Arpone. Il Parco del Colle dell'Is è nato 15 anni fa, infatti quest'anno festeggeremo insieme ad altri parchi questo avvenimento, il Parco di Conca Cialancia, il Monte Tredenti e Freidur, il Monte San Giorgio e lo Stagno di Ulx. Questo, come in altri casi, deve diventare un punto di riferimento per i cittadini, che tra l'altro frequentano il Colle in numero molto elevato soprattutto nei weekend, per far conoscere l'importanza dell'ambiente e in particolare in questo caso dell'ambiente montano, visto che ci troviamo in un territorio a oltre 1300 metri di quota.